Musica Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno, benvenuti a casa Rossini. Oggi abbiamo un ospite importante perché abbiamo l'artefice, l'allestitore del nostro studio in versione natalizia. Buongiorno Federico. Ciao a tutti, ciao. Vedete già tutto quanto allestito, poi lo andremo a studiare anche nei dettagli. Siamo con Federico Florio di Garden Center Florio che è venuto ad allestirci questa versione natalizia del nostro studio a cui teniamo tanto, arricchendola con tanti elementi nei quali naturalmente tutti voi siete in grado di riconoscere quelle che possono essere anche poi delle cose da mettersi in casa perché poi questo è anche uno dei punti chiave. Ma parliamo, parliamo di quella che è la vostra attività che è conosciutissima dai telespettatori di Rossini TV che seguendo le nostre trasmissioni, i nostri collegamenti, i nostri speciali hanno imparato a conoscere ma è conosciutissima da tutta la città perché il vostro giardino viene frequentato praticamente da tutti i giorni. Sì, siamo molto contenti della risposta che stiamo avendo sulla città e adesso per il periodo natalizio abbiamo un po' completamente rivoluzionato il garden in tema natale proprio e abbiamo cercato di portare a Pesaro quello che è la magia del Natale e quindi diciamo sempre tutti i giorni da noi è Natale ma i weekend saranno magici e quindi ci sono una serie di iniziative e attività proprio per i più piccoli ma anche per le persone più grandi nel periodo proprio dei weekend, tutti i weekend fino a Natale. Nel più puro stile di quest'ultimo periodo avete anticipato i tempi perché chiaramente è tutto aperto già da qualche settimana però va bene così perché la magia del Natale tutto sommato può anche sfuggire un po' alla stagionalità e alle date tipiche. È talmente bella che è quasi un peccato limitarla solo a qualche weekend per cui a quel punto lì estendiamola. Raccontiamola, raccontiamola un po' ai bambini e ai loro genitori soprattutto. Allora come lo scorso anno ci sarà tutti i weekend Babbo Natale. Babbo Natale che all'interno della sua casetta aspetterà di ricevere letterine dei bambini e poi anche la possibilità di fare una foto quindi all'interno della casetta totalmente allestita in chiave natalizia che richiama un po' l'ambiente del polo nord e c'è la possibilità proprio di fare la foto sul trono di Babbo Natale sempre a distanza di un metro mantenendo le misure di sicurezza che sono chiaramente necessarie. Ormai è diciamo una caratteristica costante di tutto quello che viene. Se guardiamo poi al di fuori della casetta possiamo trovare la slitta di Babbo Natale. Lo scorso anno tanti si ricorderanno che è arrivato in bicicletta e questa cosa era un po' simpatica. quest'anno ha una slitta dai colori sgargianti quindi tutta rossa con dei piccoli ritocchi, rifiniture che vanno sull'oro molto bella, i bambini la apprezzano tantissimo. La cosa particolare è che tutti i weekend su questa slitta potrebbe nevicare e quindi c'è la possibilità anche lì di fare una foto innevata con Babbo Natale che non è cosa da poco. E certo, è certo. Io mi immagino già qualcuno a casa che si sta chiedendo due cose. Primo, quanto costa? Non costa niente, questo diciamolo subito, le attività sono gratuite, non c'è un costo d'ingresso, non c'è l'obbligo d'acquisto, non c'è l'obbligo di prenotazione, non serve neanche il Green Pass perché è un'attività totalmente all'aperto e poi è un'attività correlata alla nostra, quindi non è un mercatino o altro, questo ci tengo a ribadirlo. E soltanto la possibilità per i nostri clienti o chiunque voglia all'interno della città di Pesero ma anche poi tutti i telespettatori di Rossini TV comunque in generale sono invitati di vivere la magia del Natale. E qui arrivo alla seconda domanda che è legata al dove siete perché è vero che abbiamo detto tutti vi conoscono però può esserci qualcuno che dice sì ma dove vado, dove vado, c'è sempre qualcuno a cui è opportuno dare l'indirizzo. Assolutamente, siamo a Pesero in Via Lombardia, zona un po' via Toscana, diciamo di fronte al mercatino della Coldiretti che si svolge tutti i sabato mattina e quindi alle porte della zona industriale di Via Toscana, zona Villa San Martino. È semplicissimo arrivare da noi, si arriva con il navigatore in un attimo e nei weekend abbiamo comunque l'ampio parcheggio esterno all'interno del mercato ortofrutticolo e chiudiamo nei weekend il nostro parcheggio interno per dare modo ai bambini di giocare in maniera libera senza pericolo delle macchine ma c'è comunque fuori un ampio parcheggio. Esatto, e poi se non trovate proprio il posto fate qualche decina di metri, due passi si possono fare perché poi lì c'è tutta la zona. Assolutamente, è una zona industriale, è la porta in una zona industriale quindi nei weekend non c'è nessuno. Esatto, vi invito a parcheggiare bene perché poi è invitato qualcuno invece. Vabbè, ma questo qui rientra nell'educazione che dovrebbe essere uno dei temi del Natale. Siate buoni se no Babbo Natale non vi porta i regali. Assolutamente, sì, quello possiamo dirlo. Esatto, ai genitori. Allora Federico, voi naturalmente siete soprattutto un'attività che produce e vende piante per cui non possiamo dimenticarcela questa cosa con una tradizione importante nella produzione dei ciclamini. Assolutamente, quest'anno abbiamo battuto il nostro record di produzione con oltre 17.000 piante. Vi anticipo già che il prossimo anno saranno in circa 21.200, abbiamo appena chiuso l'ordine per il successivo autunno e arriveranno circa nel periodo di maggio, sì. E questa è una cosa che ci differenzia, la produzione e coltivazione del ciclamino. È una cultura molto complessa ma che ormai gestiamo da oltre 10 anni e quindi sappiamo bene come farlo, insomma, sì. Stessa cosa con le piante grasse, vero? Assolutamente, le piante grasse non vengono prodotte direttamente da noi ma facciamo un grandissimo lavoro di selezione. Abbiamo tanti produttori dislocati sulla zona del centro Italia ma poi in tutta la penisola che andiamo personalmente a visitare per cercare di portare ogni volta qualche esemplare particolare, meno visto e quindi ampliamo continuamente l'assortimento. Questa è un po' la vostra caratteristica, quella appunto di essere produttori o comunque selezionatori e di conseguenza quello che viene venduto viene garantito dalla vostra professionalità. E poi teniamo comunque molto in generale al discorso della promozione del verde e quindi anche per questo poi adesso nel periodo natalizio abbiamo lanciato un'iniziativa e diciamo regaliamo un mini albero per ogni bambino che ci viene a trovare all'interno del garden sempre nei weekend. Con l'aiuto dell'elfo di Babbo Natale abbiamo la possibilità di rinvasarlo in un vasino più grande, decorare il vasino con un penarello ma aggiungendo poi anche degli adesivi e di portare a casa gratuitamente l'alberino. E tra l'altro poi mettiamo anche insieme il primo addobbo e quindi è un modo per un'iniziativa che ha lo scopo di sensibilizzare i bambini sul mondo della natura e responsabilizzandoli, quindi devi dargli un po' d'acqua ogni tanto, il concime, circa una volta all'anno metterlo in un vaso leggermente più grande e loro sentono questa responsabilità in maniera positiva secondo noi. Ma è sicuramente condivisibile prendersi cura e aver cura di qualcosa che naturalmente richiede un impegno ma non richiede chi sa quale abilità raffinata, però è una bella iniziativa, molto bella soprattutto ovviamente chiaramente l'aspetto della gratuità ne fa una musicità, per cui è bello. Viene accolto con favore? Molto bene, anche nei precedenti weekend c'è stata una risposta molto importante, di fatto gli elfi non è un solo elfo ma sono due gli aiutanti di Babbo Natale, uno si occupa di questa iniziativa degli alberini in regalo e l'altro invece aiuta i bambini nella realizzazione della letterina e quindi l'altro elfo proprio si occupa di questo ed entrambi i laboratori sono sempre pieni di bambini che mettono le mani un po' dappertutto e anche la realizzazione della letterina è una cosa non semplice perché si mettono poi lì, la studiano, hanno dieci voci a disposizione perché abbiamo un prestampato nel quale è possibile inserire uno quello che vuole, che cerca per facilitare poi il bambino nella realizzazione e ho notato che non è una cosa semplice, ci pensano tanto, i regali li studiano bene e poi decorano la letterina, aggiungono anche lì gli adesivi e poi possono andare a consegnarla direttamente dentro la casetta di Babbo Natale. Perfetto, il cerchio si chiude in maniera mirabile, questa cosa che mi dicevi dell'albero mi ha fatto venire in mente due cose, io ho l'abitudine di ascoltare e poi dopo mi vengono le domande, la domanda è questa, il pollice verde esiste? Ecco questa è una cosa con la quale io combatto quasi tutti i giorni, le persone entrano all'interno del Garden, consapevoli del fatto che non hanno il pollice verde, anzi il pollice nero, mi muore tutto, io non credo che esista il pollice verde. Diamo allora una comunicazione che viene da fonte autorevole. Assolutamente, io penso che ci siano persone che sanno quello che fanno, persone che invece magari non sono informate sugli argomenti e chiaramente in tutti i lavori se io non so che cosa devo fare o comunque in tutti gli hobby, passioni in generale, non so bene come muovermi e il risultato a volte viene compromesso, quindi bisogna sapere innanzitutto che cosa bisogna fare, questo è l'ABC proprio. L'altra cosa che invece mi è venuta in mente, sempre sui temi un po' divisivi, è l'annoso tema di sempre, di ogni Natale, sull'albero di Natale naturale o sull'albero artificiale. Assolutamente. Anche se c'è stato un periodo in cui ormai era diventata quasi un dato di fatto che si dovesse per essere ecologisti e scegliere l'albero artificiale, poi c'è stato un ritorno invece dall'albero naturale perché si sono capite delle cose, qual è la tua posizione? Assolutamente, allora noi personalmente come Garden selezioniamo dei produttori che si trovano proprio nell'appennino tosco umbro, quindi all'interno delle zone vicine a noi, ci tengo a ribadire che non sono degli appezzamenti di terra presi a caso e disboscati, ma sono delle aree prestabilite nel quale dei produttori impiantano degli allevamenti di alberi di Natale e quindi diverse tipologie, razze differenti. Una volta arrivata a maturazione prendono con dei macchinari, di solito dei trattorini diciamo specializzati, zollano la pianta, quindi fanno un leggero scavo intorno alla pianta, prendono la porzione di terra e poi la vanno ad inserire in dei sacchetti, quindi viene zollato l'albero, ciò significa che una volta arrivato a casa se noi lo piantiamo in un vaso più grande o lo piantiamo addirittura in giardino ci sono ottime probabilità che questo poi attechisca, quindi c'è la possibilità di prendere l'albero, tenerselo dentro casa e poi vi darò anche un consiglio su come far perdere meno aghi ai nostri abeti e poi andarlo a inserire in giardino o anche in un balcone in un vaso più grande. Il consiglio sta innanzitutto nel scegliere la giusta varietà, esistono diverse varietà di abeti, l'abete rosso è quello classico, tende a perdere un po' più aghi rispetto al normale, invece il normandico o l'argentato sono più resilienti a questa caratteristica. Possiamo andare a inserire qualche cubetto di ghiaccio sopra il terreno, all'interno del vaso, quindi sopra la terra, questo darà un po' uno shock termico alla pianta e aiuterà a sopravvivere meglio nel periodo natalizio quando i nostri riscaldamenti generalmente sono belli alti. Ecco perché allora perdono gli aghi, perché sentono caldo, si liberano un po' del caldo. Assolutamente un albero zollato che comunque ha un minimo di radici riesce a resistere meglio anche a questa caduta degli aghi, questo sì. Senti l'albero quello a cui si taglia il tronco non esiste più. Non ce l'abbiamo quello. No, non solo voi diciamo. Non so dirti se questo, alcune aziende fanno una scelta di mercato diversa e hanno anche quegli alberi lì. Certo, certo, certo. Facciamo questa selezione anche su un prodotto locale che quindi abbattiamo anche il discorso dell'inquinamento a livello di trasporti e poi aiuti comunque sia un produttore che è vicino a te. Esatto, per cui diciamo che allora a questo punto la scelta si sposta dal tema tra l'albero artificiale e l'albero sintetico e l'albero naturale, si sposta dal tema ecologia sì, ecologia no, ma diventa semplicemente ho più cura, so dove metterlo dopo, una serie di altri motivi, ma viene tolto di mezzo questo tema che invece per qualche anno aveva tenuto banco e che invece adesso è completamente superato da queste possibilità. Si fa una scelta molto soggettiva, alcune persone preferiscono a vericolo sintetico, altre invece amano quello vero e non lo cambierebbero mai. Invece è l'albero vero. Assolutamente, sì. Così, così. Voi cosa volete fare? Scegliete liberamente. Questa è la domanda, sì. Se uno ha dello spazio... Assolutamente, però comunque incominciano dal metro circa fino ai 3 metri, 5 metri, a seconda degli esemplari più grandi, quindi si ha la possibilità di ritagliarsi un po' lo spazio che uno ha dentro casa. Un albero grande da 5 metri lo comprate più per figura o pensate poi di venderlo e lo vendete? A volte capita anche, ad esempio l'anno scorso abbiamo preso 4 o 5 esemplari sopra i 3 metri, 3 metri e mezzo e abbiamo donati al comune di Candelara all'interno della piazza e quindi hanno piantato questi alberi, hanno dobbato poi con delle luci, è stata una cosa bella anche per la città, insomma. Allora, tra le varie cose che abbiamo messo qua c'è l'immancabile stella di Natale, la stella di Natale tradizionale è quella rossa che tutti ormai conosciamo, ma tu ci hai sorpreso perché hai portato due esemplari completamente diversi, raccontaci lì. Sì, questa è solo tanto una campionatura, quest'anno già in generale negli ultimi anni c'è stata una grande scelta del mercato di incominciare a produrre degli esemplari più particolari, quindi c'è questa forte ricerca da parte dei ibridatori di portare dei colori più strani, più diversi, più accesi e originali, esattamente. In questo caso sulla sinistra abbiamo la Princettia, è una varietà di stella di Natale molto particolare, ha dei fiori un pochettino più piccoli rispetto agli altri, ma ha questo colore molto acceso di un bel rosa confetto e c'è anche di una colorazione che vira invece più sul bianco. Ha quindi questo fiore un po' più piccolo ed è una varietà molto precoce, quindi questi piccoli fiorellini all'interno, che poi sarebbero i fiori reali, che sono chiamati ciazzi, si aprono più velocemente rispetto agli altri e danno questo effetto al fiore più oro, più intenso, insomma. E anche questa è una bellissima varietà che poi tra l'altro ha un'ottima ramificazione, quindi fa tanti fiori e ramifica molto bene. Invece questa è la mia destra, è un'altra varietà sempre particolare, un colore nuovo diciamo degli ultimi anni ed è un po' un salmonato che vira sul rosa. Uno screziato. Esattamente, uno screziato. Poi adesso so che negli ultimi anni stanno provando di bridare anche la stella di Natale gialla, quindi ci saranno tanti colori poi in assortimento anche negli anni ad avvenire. E la gente che viene cosa dice? Vuole la tradizione o vuole la novità? Molti scelgono la tradizione, tanti scelgono la novità, ma poi in generale la nostra è una vendita emozionale. Quando uno vede una bella stella sui colori del rosa non si crea questi problemi sulla tradizione o meno, ma prende semplicemente quello che al momento dell'acquisto lo colpisce maggiormente. Voi siete, secondo me, un osservatorio importante anche per capire un po' gli umori delle persone, soprattutto in questo periodo che arriva dopo tutto il periodo difficile che conosciamo, eccetera, eccetera. Sicuramente voi avete la possibilità di percepire se c'è una voglia di ritornare a vivere in un modo magari diverso da quello a cui siamo stati costretti negli ultimi periodi. Assolutamente, quello sicuramente l'abbiamo notato anche noi. Se le persone hanno la possibilità di uscire, di fare delle attività che coinvolgano le persone in maniera positiva, lo fanno e questo ha sul mercato, secondo me, attualmente una risposta molto importante. C'è qualsiasi attività che abbiamo fatto circa negli ultimi due anni precedenti, ma soprattutto in questo anno dove le restrizioni sono meno marcate, c'è sempre stata una risposta sopra alle nostre aspettative. Quindi su questo siamo molto contenti, soprattutto quando si parla di bambini o attività all'aperto e che comprendono poi gli animali. Ad esempio anche adesso nel periodo natalizio abbiamo all'interno del Santo Presepe allestito con delle figure a grandezza naturale, il cavallino. Abbiamo una dolce cavallina di nome Giulia, dove c'è la possibilità di salire sopra il cavallo e fare un giro all'interno del Presepe, che chiaramente è un'area circoscritta, quindi messa in sicurezza. Una volta arrivati davanti alla natività, che c'è una piccola casettina di legno dove all'interno abbiamo natività, il cavallino si ferma e lì si fa una bella foto, ricordo, per mandare anche i parenti o magari ecco per gli amici. E sempre in tema di animaletti abbiamo anche i piccoli pelosetti della fattoria didattica alla linfa del nostro amico contadino Enrico e ha tutta una serie di animaletti molto particolari, ad esempio delle galline dal piumaggio bianco, oppure dei coniglietti a testa d'ariete, oppure il porcellino d'India. Tutti animaletti che solitamente il bambino vede solo nelle fotografie oppure non ha mai visto e quando è lì che le può accarezzare impazzisce proprio, letteralmente. Faccio una domanda che ha già la sua risposta perché altrimenti non lo fareste più. Sono ormai un po' di anni che avete messo in piedi questa iniziativa. Ha un riscontro importante anche in termini di notorietà, ma anche in termini di vendite alla fine? Sì, noi crediamo fortemente che nel mondo d'oggi tutti abbiano tutto, nessuno ha grandissime cose che gli mancano oppure anche a livello diciamo delle decorazioni all'interno delle proprie case o anche in termini di piante, è difficile che una persona non abbia nulla dentro casa e quindi cerchiamo di dare una esperienza d'acquisto completamente diversa magari rispetto a quella della grande distribuzione in modo tale che le persone possano vivere un ambiente magico, un'atmosfera natalizia e poi è quasi una conseguenza quella dell'acquisto. Poi una persona può comprare oppure meno, a noi non cambia assolutamente niente o perlomeno non è questo il nostro obiettivo. Partiamo prima dal cercare di far stare bene le persone, vivere un'atmosfera natalizia e poi il resto crediamo che sia una conseguenza. Bene, io sono sicuro che se andate a farla una visita avrete modo di verificare che tutto quello che abbiamo detto oggi con Federico Florio è tutta pura verità perché è quella l'atmosfera che si respira e quella la sensazione, insomma, arrivando da voi in questo periodo. Mi fa piacere che si avverta questo. Si deve avvertire e si avverte sicuramente perché questa è l'impostazione che avete dato e lo sforzo che fate perché poi non è una cosa che nasce così nell'angolino messa lì, insomma la necessità di trovare operatori dedicati, interessati, che sanno fare il loro mestiere. Penso alla cosa che mi hai detto dei cavalli e degli animali, ci sono delle persone che sanno trattarli, non è che si può lasciare lì chiunque. No, assolutamente, ci vuole un operatore certificato che possa fare questo. Esatto, esatto, per cui insomma è uno sforzo che però fa piacere capire e riscontrare che riceve un riscontro. Assolutamente, su questo siamo molto soddisfatti. Si vede, ti si guarda e si vede che sei soddisfatto. Bene, mi fa piacere, grazie. Federico, siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata, i soliti 30 secondi o per fare un saluto o per dare un appuntamento al vostro giardino. Assolutamente, vi aspetto all'interno del Garden Center Florio a Pesaro, siamo aperti tutti i giorni, tutti i giorni sarà Natale ma i weekend saranno magici, quindi ricordo velocemente le attività, Babbo Natale, la slitta, i laboratori, una dolce cavallina, i piccoli animaletti e poi tutto il contesto che abbiamo creato insomma a livello emozionale e niente, nient'altro, vi aspetto. Perfetto, allora con questo invito si conclude la puntata di oggi di Casa Rossini, è stato con noi ospite Federico Florio che ci ha raccontato bene nei dettagli tutto quanto, lo ringraziamo per averci raccontato tutto ma anche noi da parte nostra vi invitiamo ad andarli a trovare perché è un'esperienza veramente bella, piacevole e rilassante, sia che abbiate i bambini sia che non li abbiate, va bene lo stesso, si torna tutti i bambini con la magia del Natale. Grazie a tutti per essere stati con noi, l'appuntamento è una prossima puntata di Casa Rossini e ancora grazie a Federico. Grazie a voi di averci invitato.